No, sinceramente no. Allo stato attuale ti dico no, perché ci sono ancora tre partite, ci sono nove punti e facendo nove punti c'è la salvezza matematica, credo. Quindi allo stato attuale ti dico che io a Playout non ci sto pensando e penso anche ai miei compagni di squadra, quindi perché pensare quando ancora c'è la possibilità di fare un'altra strada, io la vedo così. Siamo tutti quanti cercando, abbiamo cercato di fare qualcosa in più per cercare di tirarci fuori la situazione che c'era e che c'è ancora, perché alla fine non è cambiato tanto, hai fatto qualche passo in avanti, però alla fine la classifica dice ancora che sei nei Playout. Capisco che giustamente quando si entrano in situazioni difficili non è facile cercare e trovare la cosa positiva, però purtroppo noi giocatori per primi dobbiamo farlo e l'abbiamo sempre fatto. Siamo anche in un periodo di campionato finale dove ci sta che può subentrare un po' di stanchezza, però purtroppo non deve essere il nostro caso, noi dobbiamo cercare di correre più degli altri, il problema è questo. Io non entro nell'ambito tecnico perché alla fine c'è il ministro e c'è chi di dovere che deve giustamente cercare di trovare la mossa più giusta. Io mi farisco più troppo dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'attenzione, della mentalità e su quello penso che ognuno sta dando il massimo. Poi ripeto, in questa circostanza ci sta di incappare in situazioni, non dico di blackout, però il peso si sente, anche a livello fisico e mentale si sente.